Una partita intensa, una partita dove le due squadre non hanno mai chiuso la porta per dire ho vinto, è una partita che praticamente dai là a gara 4 che sarà presumibilmente così. Montecatini è rimasta nel match nei momenti difficili pur tirando male da tre punti ma ha trovato canesti importanti quando doveva farlo, a Rigoni ancora una volta super ma chi era ha trovato canesti importanti sarebbe non corretto non parlare di tutta la squadra. Dall'altra parte però Avellino ha dimostrato di non essere arrivata in finale per caso, ha vinto il quarto di finale rimontando il fattore campo, ha vinto la semifinale rimontando il fattore campo, adesso in finale se la gioca. È una guerra, è una guerra sportiva, Avellino è una squadra quadrata, esperta, forte, ha centimetri, ha talento, ha solidità difensiva, sapevamo di non venire qui a festeggiare, sapevamo di venire qui a battagliare. Loro hanno fatto una partita super, molto diversa dalla partita che ha fatto martedì a livello di atteggiamento ma non ce l'aspettavamo tant'è che la partita è fino ad 81-80 quindi è stata una battaglia sportiva, sapevamo questo, torneremo domenica pronti a battagliare di nuovo.